L'avvocato Ramello ormai spalla fissa, anzi diciamo che io sono quasi sempre spalla fissa sua. Eccoci qua, sto vedendo arrivare un po' di gente, perfetto. Beh direi che è una bella presenza anche oggi. Bene bene sono molto contento. Ciao Veronica, ecco qui anche Veronica. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ciao Raffaella, adesso vi presento tutti così almeno si stiamo stabilizzati con gli ingressi, perfetto. Bene, allora grazie innanzitutto di nuovo per essere qui anche oggi e come dicevo abbiamo una new entry anche se in realtà qualcuno di voi si la conosce già perché ha già avuto modo di entrare in contatto con Lorenzo quindi presento, non so se lo vedete a destra o a sinistra di me non ho idea di come venga visualizzato comunque è quello che non sembra un concorrente di Mike Buongiorno. L'altro è l'avvocato ovviamente, l'avvocato Ramello che conoscete già ovviamente e il dottor Frascotti Lorenzo che saluto ringrazio anche lui parte, lo vedo a destra dicono, perfetto allora sarà contento di essere a destra Lorenzo. Dexter Ampati. Quindi il dottor Frascotti che chiamerò Lorenzo perché non l'ho mai chiamato dottor Frascotti mi fa pure abbastanza brutto come non l'ho mai chiamato avvocato, l'avvocato però appunto abbiamo Lorenzo e Massimo oggi con noi. Lorenzo non vi lasciate ingannare dalla sua giovane età che cerca di mascherare con quest'aria da attore oligodiano e sguardi penetranti ma in realtà è molto giovane ma assolutamente preparato. Quindi è entrato a far parte del team digitale a supporto ovviamente di tutto il gruppo con un know-how incredibile e ovviamente Ramello se l'è acchiappato e ci stiamo lavorando alla grande con anche Lorenzo. Quindi l'altro giorno mi ha chiesto se poteva preparare qualcosa relativamente ai data breach e quindi abbiamo preso l'occasione, ahimè sfortunata barra sfortunata, perché ne andremo a discutere, questo data breach di IMS per fare un po' di chiarezza appunto in generale sul discorso del data breach ma anche cercando di non andare troppo dentro la sicurezza informatica però anche andando a parlare un po' di sicurezza informatica. Quindi detto questo se non sto dimenticando nulla e vedo che siamo arrivati praticamente tutti perché vedo che rispetto alle iscrizioni ci siamo praticamente tutti ringrazio anche l'ho visto passare prima no è sparito porca miseria niente è sparito volevo salutare una persona ma è andata si vede che si è scollegato peccato Maurizio ecco non mi viene a noi Maurizio che di solito arriva sempre con una mezz'ora di ritardo l'ho visto arrivare con mezz'ora d'anticipo ho detto cavolo incredibile deve essere successo qualcosa no eccoci qua perfetto no diciamo che ci siamo stabilizzati con le connessioni allora la modalità per chi vedo che forse di nuovo nuovo non c'è nessuno però vabbè la modalità ovviamente la conoscete la tipologia di webinar è come al solito aperta nel senso che abbiamo preparato poche slide e un buon dibattito aperto a tutti quindi in qualsiasi momento voi potete porre domande in questo caso io farò un po' da moderatore e un po' diciamo da supporto per la parte informatica siti internet sicurezza eccetera ma anche l'avvocato è in linea in chat in modo tale che possiamo rispondere quindi a qualcuno risponderemo in maniera privata altri invece se una domanda abbastanza aperta che può essere di interesse per tutti a quel punto la la apriamo a tutti come dibattito e cominciamo a ragionarci a ragionarci su detto questo ho già parlato troppo quindi lascio la parola penso a lorenzo questo punto per l'ora che dire presentarmi perché ripeto è comunque un di più anche lui più di 60 enti autore di pubblicazioni e stimatissimo congressista ma molto bravo ragazzi secondo me piacerà piacerà un sacco quindi siamo qua siamo tutti poi a disposizione lo faccio partire così almeno andiamo subito al solo prima ha detto anche no ma non ho preparato molto preparato 15 slide quindi non ci sarà più di un oretto un oretto e un quarto di chiacchierata massimo ha già detto a cavolo questo è un problema perché di solito io andrei ci scambiamo di cinque minuti di telefonata poi parliamo due ore con un'ora e mezza di materiale secondo me vi rapiamo fino alle 15 di oggi pomeriggio però cercheremo di poi smettere questi come si chiamano sequestre di persona ad un certo punto taglieremo la web e il microfono a lorenzo esatto ma il problema è il problema massimo credo quindi non so come siamo organizzatori non so se riusciamo a tagliarci a questo punto di vista va bene ragazzi a parte un attimo di come dire l'introduzione lascio veramente la parola stavolta a lorenzo e vi auguro buon webinar e comunque noi rimaniamo qua attivi se è un webcam che in chat quindi grazie a tutti qualsiasi cosa scriveteci nelle domande ciao ragazzi passo la palla a lorenzo anzi a destra allora buongiorno a tutti oggi parleremo le presentazioni le rimando dai tante è già ampiamente dibattuto riguardo alle mie capacità mastodontiche che in realtà non sono vere oggi parleremo di un caso che è di recente cronaca il caso in se ma non parleremo solamente del caso in se lo useremo come esempio per vedere come nella pratica si realizza una violazione dei dati personali per quanto riguarda gli apparati web e il caso in se l'abbiamo ribattezzato così è un eccellente esempio per vedere nella pratica sia le fasi che hanno condotto alla violazione dei dati personali sia come è stata gestita sia sul piano normativo che sul piano organizzativo il data breach cioè l'evento sia quali potrebbero essere le conseguenze derivanti da una violazione dei dati personali io passo subito alla condivisione schermo se è possibile aspetta che te la devo abilitare sono dimenticato vai tutta tua eccola qua un attimo che la impostiamo non la vedo aspetta ecco adesso è arrivata però la vedi in versione così vai che piano piano ci arriviamo vediamo la vedete? ok perfetto diteli se anche voi la vedete io sì di solito si vede per tutti magari ricordati che magari c'è qualche secondo di stacco è vero che non sono molte le slide sì sì la vedono la vedono perfetto vedo che arrivano le risposte Gianbruno perfetto Raffaella Davide perché perfetto ottimo io ho creato queste slide più per me stesso che sono semplici 15 slide per dividere il percorso logico perché altrimenti vado fuori dal seminato con troppa facilità allora il caso IMSS la prima cosa che impariamo da un caso come questo è fare la distinzione tra un tra virgolette semplice incidente informatico e una violazione di dati personali una violazione di dati personali si concretizza quando c'è di mezzo una serie di informazioni personali nel caso dell'IMS ci sono entrambe le cose sia la violazione di dati personali sia l'incidente informatico cioè il portale dell'IMS a un certo punto pare e uso sempre il dubitativo per un sovraccarico di accessi ha cominciato a manifestare forti disfunzioni contestualmente a queste disfunzioni c'è stata anche una indebita visualizzazioni delle posizioni previdenziali di perfetti sconosciuti quindi se andiamo a prendere la definizione di violazione dei dati personali che in inglese si dice per l'appunto data breach andiamo a vedere che c'è scritto divulgazione non autorizzata causata da un incidente accidentale o volontario esattamente quello che è avvenuto all'IMS che fino a prova contraria è stato ovviamente un incidente c'è stata una divulgazione non autorizzata quindi nel caso IMSS la parte relativa al data breach si riferisce unicamente a questa visualizzazione indebita delle posizioni previdenziali di perfetti sconosciuti a un certo punto sostanzialmente se io accedevo al mio MAIMS col mio codice PIN d'improvviso vedevo la posizione previdenziale di un perfetto sconosciuto con tanto di documenti codice fiscale indirizzo mail PEC ovviamente è un caso gravissimo come lo ha definito anche l'autorità garante quindi solamente questo aspetto si definisce data breach tutto il resto di quello che è avvenuto è un incidente informatico quindi la più importante distinzione che possiamo fare proprio prendendo a prestito l'esempio del caso IMSS è che c'è differenza tra un semplice incidente informatico che non coinvolge database contenenti informazioni personali e un incidente informatico che ha comportato perdita, distruzione, modifica o divulgazione non autorizzata di informazioni personali. Più per esteso data breach non riguarda unicamente gli aspetti informatici ovviamente ma anche gli aspetti tra virgolette analogici per esempio se un archivio viene allagato e i documenti vengono danneggiati e questi documenti contenevano informazioni personali siamo comunque in presenza di un data breach cioè di una violazione dei dati personali. Il caso IMSS ve lo anticipo è interessante perché permette veramente di anche ipotizzare tutte le varie sfaccettature di un evento simile per quanto riguarda i sistemi web e quindi noi andremo a vedere esclusivamente gli aspetti web e come nella pratica può concretizzarsi un data breach. Questa è la definizione che dà il regolamento europeo ed è una novità prima del 2016 non c'era il concetto di violazione dei dati personali se non qua e là a spizzicche bocconi nelle varie normative. È stato col regolamento europeo quindi nel 2016 che è stato codificato questo la possibilità che avvengano eventi di questo genere e sono stati introdotti una serie di obblighi. Noi adesso andiamo a vedere brevemente questi obblighi e vedremo come l'Inps ha gestito sul piano del rispetto del regolamento europeo questo evento. Il primo obbligo è la famigerata notifica di violazione all'autorità garante. Che cosa significa? Nel momento in cui ci si accorge che c'è stata una perdita, una distruzione, una divulgazione non autorizzata di qualsivoglia informazione personale, la prima cosa che bisogna fare e lo vedremo in seguito è porre rimedio a questa violazione. Poi bisogna valutarne l'entità e in base all'entità ma soprattutto ai rischi per le persone fisiche conseguenti a questo evento c'è o meno l'obbligo di fare una notifica all'autorità garante entro le 72 ore dal momento in cui si è entrati a conoscenza che è avvenuta una violazione di dati personali. Vediamolo un po' calato nella pratica perché detto così sembra poco chiaro. L'Inps nella versione ufficiale la mattina del primo aprile si è reso conto che c'è stata durante la notte e nelle prime ore della mattina la possibilità che le persone potessero visualizzare la posizione previdenziale di perfetti sconosciuti. Quindi da quel momento, dal momento in cui l'Inps si è resa conto di questo fatto, scattano le 72 ore di tempo che il legislatore mette a disposizione del titolare del trattamento, in questo caso l'Inps, per addivenire alla notifica di violazione all'autorità garante. La notifica è erroneamente soprannominata autodenuncia, in realtà non è un'autodenuncia, è un mettere, un informare all'autorità garante che è avvenuto un incidente, di modo che l'autorità garante possa effettuare le proprie indagini e applicare i propri poteri correttivi. Il regolamento europeo non parla di poteri sanzionatori o punitivi, poteri correttivi, usa questa simpatica sfumatura che la dice lunga su quello che è l'atteggiamento dell'autorità garante in questi casi. Ebbene, nel caso Inps la notifica è stata effettuata il 3 aprile, in mattinata c'è stata la comunicazione ufficiale da parte dell'ente, cioè entro le 72 ore l'Inps ha raccolto tutte le informazioni relative al fatto e le ha comunicate all'autorità garante secondo un preciso schema che è previsto dalla norma. Quindi nel caso di specie vediamo come nella pratica a seguito del data breach si è comportato, l'ente si è comportato per quanto riguarda l'obbligo di quell'articolo 33, la notifica di violazione. Ora la notifica di una violazione non è sempre obbligatoria, questa è una versione che è stata lungamente distribuita o comunque comunicata ai clienti, in realtà non è sempre obbligatorio fare questa notifica, deve sussistere un alto rischio per i diritti delle libertà delle persone fisiche, poi magari successivamente faremo una digressione su cosa si intende per rischio per i diritti delle libertà delle persone. In questo caso nel caso Inps il rischio c'era perché stiamo parlando dell'ente di previdenza che ha una serie di informazioni, una volta si diceva sensibili, oggi si dice di particolare natura che possono effettivamente pregiudicare i diritti delle libertà, le libertà fondamentali dell'essere umano. Vi faccio un esempio. Entrando sul MyInps, io prima ho fatto la prova per sincerarmi di che tipo di informazioni fossero visualizzabili, è possibile entrare nella sezione documentazione. Tecnicamente è fattibile calcolare il reddito di una persona, vedere se quella persona ha delle forme di invalidità o addirittura capire che tipo di invalidità abbia quella persona. In questo caso stiamo parlando di una violazione di informazioni personali che può dar luogo a serie conseguenze. Ovvio che in questo caso l'Inps abbia optato per la comunicazione, la notifica di violazione, quindi non sempre è obbligatorio. È necessario nelle prime ore effettuare una valutazione dei rischi e ovviamente deve esistere una procedura e successivamente vedremo l'importanza dell'esistenza di una procedura per gestire questi eventi. Quindi l'Inps entro 48 ore e dentro le 72 ore previste dal legislatore ha effettuato la notifica di violazione. Poi c'è un secondo obbligo che è stabilito dal legislatore europeo che è quello di effettuare la notifica presso gli interessati, cioè presso coloro che possono essere stati interessati dalla violazione. Anche in questo caso è prevista la notifica unicamente se c'è un rischio. Insomma se questo data breach, Inps, fosse consistito solamente nella visualizzazione di un nome, senza un cognome, senza nessun'altra informazione, quindi su informazioni che non possono nuocere la persona fisica, in questo caso l'ente non sarebbe neanche stato soggetto all'obbligo di effettuare la notifica all'autorità garante e neppure a questo punto di notificarlo presso gli interessati. Uno degli aspetti che bisogna, ovviamente mi riferivo all'articolo 34, la comunicazione di violazione presso gli interessati. L'Inps ha adempiuto a questo obbligo facendo una comunicazione pubblica, perché ha fatto una comunicazione pubblica e non una comunicazione diretta all'interessato, per esempio con una comunicazione mail specifica per ciascun soggetto interessato. La ragione è molto semplice, l'Inps in quelle fasi non aveva ancora chiaro chi fosse stato coinvolto nella violazione di dati personali e quindi in questo caso ha dovuto procedere con una comunicazione pubblica. C'è un altro caso in cui si può procedere con la comunicazione pubblica e non diretta a ciascun interessato, ovvero nel caso in cui per fare questa comunicazione servirebbe uno sforzo immenso. Pensiamo a un data breach che avviene all'interno di un database dove non ci sono i dati di contatto, per esempio email, di tutti gli interessati, quindi bisogna procedere con l'invio di lettere cartacee. Lo sforzo sarebbe enorme e quindi il legislatore consente in questo caso di fare questa comunicazione agli interessati per mezzo di una comunicazione pubblica, esattamente come ha fatto l'Inps che era nell'impossibilità oggettiva di capire chi fosse stato coinvolto. Quindi vediamo che nelle prime 72 ore l'Inps ha adempiuto tanto all'articolo 33 quanto all'articolo 34, ha fatto la comunicazione all'autorità garante e ha fatto la comunicazione agli interessati e questo ovviamente rientra negli obblighi. Uno degli aspetti che però dobbiamo immediatamente considerare e dobbiamo portare ad esempio concreto è quanto è previsto nella comunicazione al garante. Sono previste una serie di informazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate all'autorità garante per metterla nelle condizioni di cominciare la propria attività di indagine. Una delle informazioni che devono essere fornite è la descrizione delle misure adottate di fatto per mitigare o addirittura annullare la fonte del data breach e gli effetti nell'immediato. Cioè la prima cosa che bisogna fare quando succede in questo caso un incidente web con conseguente divulgazione non autorizzata, perdita o distruzione di informazioni personali è porvi rimedio immediatamente. Se il data breach è ancora in corso bisogna immediatamente adoperarsi per bloccarlo. In questo caso l'IMS come ha reagito? Non riuscendo a sistemare il portale in corso d'opera tecnicamente l'ha messo giù. Il portale a una certa ora del giorno se si accedeva a ims.it veniva fuori una comunicazione che avvisava che il portale era momentaneamente disattivo. Questo perché uno ovviamente degli obblighi è quando ci si accorge che è in corso un data breach bisogna bloccarlo per quanto possibile. In questo caso la decisione presa dall'IMS è stata drammatica, drastica, cioè quella di mettere giù il portale interamente e poi successivamente ricaricarlo in una versione provvisoria solamente per gestire il traffico di accessi per i benefici covid-19. Quindi vediamo un po' le fasi di gestione della crisi come sono state effettuate in conformità alla norma. Nell'immediato si è posto rimedio alla violazione, si sarà sicuramente effettuata una rapida indagine interna per poter comunicare all'autorità garante. Entro le 72 ore è stata fatta la comunicazione all'autorità garante e la comunicazione agli interessati. Quindi possiamo vedere che la gestione della crisi è stata fatta in conformità alle norme. Ovviamente questi non sono gli aspetti più interessanti della vicenda, era una introduzione dovuta per far vedere che l'articolo 33 e l'articolo 34 come nella pratica si applica nel gestire una crisi di questo genere. La parte più interessante è sicuramente il come si è arrivato, si è arrivati a questa crisi e quali insegnamenti se ne possono trarre e ovviamente quali potrebbero essere le conseguenze. Quindi immediatamente ci lanciamo nell'analisi delle cause del data breach e sugli insegnamenti che ne possiamo trarre. Innanzitutto io vi ho condiviso questo articolo per sfatare un mito che io ho molti amici che lavorano all'Inps e quindi nel frattempo ho avuto occasione di chiacchierare con loro, anche un po' di prendermi in giro sinceramente, e tutti quanti mi dicevano che non era prevedibile un così alto numero di accessi al portale. Questo è dal mio punto di vista un mito da sfatare perché io vi ho condiviso questo articolo della Repubblica, era prevedibile che vista un po' la confusione che lo stesso ente ha fatto circa la modalità di erogazione del contributo da 600 euro per le partite IVA, era prevedibile che vi sarebbe stata un'ansia da click day, quindi che il portale sarebbe stato preso d'assalto. Ma più che il prevederlo nelle ore precedenti, nei giorni precedenti, questo aspetto andava sicuramente preso in considerazione a monte, quindi il primo insegnamento che dobbiamo trarre dalla caporetto informatica dell'Inps è sostanzialmente quello che serve l'analisi rischi. Che cos'è un'analisi rischi? L'analisi rischi è la primo passo che si fa in qualunque realtà per addivenire a una conformità in materia di protezione dei dati personali anche sul piano della sicurezza informatica. I sistemi informativi dell'ente devono essere valutati sulla base di che cosa? Come dice l'articolo 32 in base ai rischi di varia natura per i diritti e le libertà delle persone fisiche. L'articolo 32 che vediamo tra un secondo non dice che i livelli di sicurezza devono essere superiori e neanche inferiori al rischio, devono essere commisurati, adeguati al rischio. Come si fa a stabilire un rischio per le persone fisiche? Beh, innanzitutto si prende in considerazione la qualità di informazioni che transitano in questo caso per un portale. Nel caso dell'Inps effettivamente il rischio è alto perché l'Inps tratta informazioni di natura sanitaria, dati anagrafici, dati comuni, tratta una quantità di informazioni personali che una volta venivano definiti molto sensibili e di conseguenza il portale dell'Inps aveva un livello di rischio ragionevolmente elevato e quindi degli standard di sicurezza adeguate a questo rischio. Quindi la prima cosa che viene presa in considerazione in un'analisi rischi è la qualità delle informazioni personali trattate. In secundis la quantità, la mole di queste informazioni, il numero degli interessati. Ora, un conto è il sito web dell'Inps, un conto è il sito web di RDS International. Sono due realtà completamente diverse, sia per la qualità delle informazioni personali trattate, nel caso di RDS fondamentalmente dati anagrafici, dati di contatto e qualche dato proveniente probabilmente dai cookie. Nel caso dell'Inps c'è l'area personale, c'è la gestione documentale, c'è la parte previdenziale contributiva, tutta la posizione completa. Quindi effettivamente stiamo parlando sia di qualità ma soprattutto di quantità di informazioni diverse. Ecco, tenuto il conto di questi due parametri bisogna stabilire quali sarebbero i livelli di sicurezza ideali e poi vedere nella pratica, nell'attualità, nello stato dell'arte quali sono i livelli di sicurezza odierni e programmare, se non è possibile farlo nell'immediato o se è possibile farlo immediatamente, riportare questi livelli al rischio. Quindi la prima cosa che va fatta è l'analisi rischi. È evidente che presso l'Inps c'è stato un cortocircuito nell'analisi rischi. È evidente che l'analisi rischi condotta magari nel 2016, 2017, 2018 circa il livello di sicurezza strutturale del portale non sia stato aggiornato in prossimità al primo aprile, perché tutti i siti web sono calibrati per una certa quantità di accessi giornalieri in base allo storico e calibrati anche per reggere una quantità di accessi superiori. Nel caso dell'Inps, probabilmente all'epoca, se guardata l'andamento nel corso degli ultimi mesi o anni, è stabilito che i sistemi dovevano essere tarati per un certo quantitativo di accessi. È evidente che quello che è avvenuto il primo aprile è stata un'enorme quantità di accessi superiori di gran lunga alla media quotidiana giornaliera, ma è anche evidente che fosse prevedibile, come abbiamo visto in precedenza. Quindi l'analisi rischi andava aggiornata. Quindi la cosa che dobbiamo trarre a insegnamento è che per quanto riguarda i sistemi web, ma i sistemi informatici in generale, è necessario fare un'analisi rischi fatta correttamente e soprattutto che questa analisi rischi sia aggiornata nel tempo. Non è considerabile conforme la condizione secondo cui si è fatta un'analisi, magari nel 2017 o nel 2018 e poi non lo si è più aggiornata. Oggi come oggi questi aspetti informatici devono essere monitorati regolarmente. Quindi dal mio punto di vista e sulla base delle scarne informazioni che ci giungono dalla stampa, posso sentenziare, se mi consentite, che c'è stato un cortocircuito nell'analisi rischi. Cioè quest'ultimo passaggio, il rischio primo aprile, probabilmente non è stato adeguatamente preso in considerazione. La stessa cosa vale per qualunque portale istituzionale, anche quello di un'amministrazione locale. I portali istituzionali, un conto se sono portali statici, cioè il cittadino non fa altro che andare a leggere e stop. Un conto è se su questi portali vi sono per esempio delle aree private, la possibilità di trasmettere domande o di compilarle online. Ecco, in questo caso il livello di rischio aumenta e l'analisi rischi deve essere obbligatoriamente fatta sui sistemi web e deve essere costantemente tenuta aggiornata. Quindi il primo insegnamento è questo, fare quantomeno l'analisi rischi e renderla costantemente aggiornata. Ovviamente non si chiede... Scusami, posso intervenire solo per lanciare una piccola provocazione, ovviamente non a te ma a chi ci ascolta e ragionarci assieme. Molto spesso una persona è portata a pensare, quando si usa in termini del tipo analisi dei rischi, è portata a pensare che l'analisi sia finalizzata a evitare qualcosa, qualcosa di negativo, il rischio è sempre visto come un qualcosa di negativo. E quindi comunemente si pensa, faccio l'analisi del rischio per capire se è possibile che i sistemi vadano giù, se è possibile che i sistemi siano hackerati o che abbiano altri tipi di problemi. Questo è impreciso, perché così ci dice la scienza dell'analisi dei rischi, perché poi l'analisi dei rischi noi adesso ne parliamo trattando di protezione dei dati personali, ma l'analisi dei rischi sta alla base di qualunque sistema tecnologico e non. Quindi dicevo, è un po' impreciso perché in realtà l'analisi dei rischi diventa importante proprio nella misura in cui ci aiuta a progettare lo strumento, cioè nel caso degli IMSS l'analisi dei rischi che doveva essere fatta non era il sistema, il server è in grado di reggere x mila accessi contemporanei e se la risposta era no, allora la risposta alla domanda, allora la conseguenza era benissimo, compriamo spazio, server, attrezzature, eccetera, per consentire quel tipo di ingresso, quel tipo di accesso contemporaneo. L'analisi dei rischi poteva ad esempio portare, tanti altri osservatori l'hanno rilevato, poteva portare ad esempio a una diversa regolamentazione dell'accesso, cioè fermo restando che per poter accedere al beneficio bisognava presentare un'istanza, l'istanza poteva essere scaglionata, così come del resto è stato fatto, no? La soluzione organizzativa è sempre un po' la soluzione tampone. Purtroppo la tecnologia non riesce sempre a stare dietro ai problemi. Alla tecnologia si assomma poi il problema che hanno tutte le pubbliche amministrazioni, che è la borsa della spesa, alle procedure di acquisto e quindi è sicuramente impossibile nel breve tempo, come ha avuto l'Inps, partire, perché non dimentichiamoci che questo tipo di beneficio è nato in 15 giorni, ok? Il decreto cura Italia era del 17 di marzo, quindi in 15 giorni è vero che l'Inps aveva un sito per gestire anche il reddito di cittadinanza e tutto l'ordinario, ma questo tipo di beneficio non era previsto. Quindi sorta l'esigenza, l'analisi dei rischi corretti è quella che dice, benissimo, questa è l'esigenza, dobbiamo rendere attivo il servizio, come lo organizziamo? Allora ci sarà la risposta informatica, ci sarà la risposta tecnologica, ma ci sarà anche la risposta organizzativa e quella procedurale. Quindi il consiglio, soprattutto agli enti di piccole dimensioni, non potrà mai essere quello di dire, non fate l'analisi dei rischi perché altrimenti vi spaventate e non fate più partire il servizio, ma esattamente il contrario, fate l'analisi dei rischi perché proprio nella misura in cui capirete quali possono essere i rischi andrete a istituire il servizio con modalità tali da evitare che sorgano questo tipo di problemi. Sei d'accordo Lorenzo? Ma io a chi adoro quando parli così lo sai. No, è assolutamente d'accordo, più che altro è veramente una questione organizzativa perché stavo proprio forse giungendo a dirlo, se fosse stata fatta bene un'analisi rischi probabilmente avrebbero potuto comunicare al governo che erano impreparati. Una delle scusanti che ho letto sulla stampa è che l'Inps è stata colta di sorpresa, non ha avuto il tempo di organizzarsi. È vero, però è anche vero che poteva comunicare al governo una diversa modalità, per esempio dalle ore tot alle ore tot fanno la richiesta solo quelli che hanno il cognome che inizia per G. Si poteva trovare mille soluzioni per evitare l'intasamento. Quindi sì, sono pienamente d'accordo, l'analisi rischi andava fatta in questo senso, aggiornata in questo senso, più che altro di natura organizzativa, in prossimità del primo aprile, è evidente che c'è stato un cortocircuito in tal senso. Sono perfettamente d'accordo. Poi se mi permetti un'ultima osservazione. Qui stiamo parlando non di un soggetto che dall'oggiamento al domani ha deciso di creare un nuovo servizio, una nuova opportunità, un nuovo form sul proprio sito per dare un servizio nuovo al cittadino. Stiamo parlando di un istituto che lavora prevalentemente online nella gestione ordinaria dei suoi servizi. Quindi è un istituto che ovviamente non gestisce al proprio interno il portale. In questi giorni le polemiche poi sull'affidamento esterno, sull'esternalizzazione di questo tipo di servizio, sui relativi costi, eccetera, si sono sprecate. Però voglio dire, ha una struttura esterna, una struttura che è specializzata e di mestiere fa proprio quello, organizzare siti web di queste dimensioni con queste caratteristiche anche critiche. Quindi il problema, se mi consenti, addirittura nasce prima dell'analisi dei rischi, perché faccio una piccola digressione. L'analisi dei rischi, la normativa e diciamo le buone regole tecniche prevedono venga fatta quando si deve far partire qualcosa di nuovo. E qui in effetti l'analisi dei rischi del nuovo servizio, quello di accesso al beneficio per i cosiddetti autonomi. Ma qui a Monte ci doveva stare un'analisi dei rischi ancora preventiva. L'analisi dei rischi che sta alla base di due concetti nuovi previsti dal regolamento europeo, che sono quello del cosiddetto privacy by design e privacy by default. Cioè, quando io acquisto un prodotto o un servizio, in questo caso, quando io, IMS, acquisto un portale o tutto quello che sta dietro alla gestione di un portale, io devo acquistare un prodotto barra servizio, perché ovvio che in questi casi è un mix di cose, devo acquistare un qualcosa che sia già organizzato, sia già studiato con una certa ottica. Quindi un'analisi del rischio ancora preventiva. E pare che in questo caso, ma ovviamente riporto delle indiscrezioni che sono circolate sul web, pare proprio che in questo caso il problema non sia stato soltanto il picco di domande, ma il problema sia stato il passaggio a una modalità nuova barra diversa di gestione della piattaforma IMS. Quindi parrebbe che dietro al data breach dell'IMSS ci sia stato che cosa? Un passaggio da un tipo di server o da un tipo di infrastruttura ad un'altra che si è venuto a sommare a un picco di richieste e di accessi. Questo pare, dicono, alcune indiscrezioni. Sì, ci sono tante indiscrezioni. Poi so che Lorenzo ha preparato anche un dibattito finale anche su questo. Ho visto che si sono anche concatenati una serie di avvenimenti, tra cui pare comunque ci sia stato un attacco di DOS, quindi comunque in qualche modo non è un attacco hacker vero e proprio, ma comunque in qualche modo era stato messo sotto pressione già da prima delle domande il sito. Una sorta di, come dire, non addettuatezza tecnica per poter rispondere a tutte le domande unito a questo, unito anche al fatto che quella modalità tecnica che probabilmente si è verificata è quella del sovraccarico appunto della richiesta, quindi nel cercare di risolvere questo qualcuno pare abbia abilitato la modalità caching, quindi si intende proprio far visualizzare le pagine in modalità cache, quindi significa più velocemente ma, come dire, salvando in locale alcune informazioni. In questo caso è partito la problematica del, diciamo, del vedere altre informazioni di altri utenti online perché appunto erano rimaste in cache lato server. Quindi ci sono una serie di ipotesi, non abbiamo ancora visto un'ufficializzazione da questo punto di vista. Infatti mi domandavo se ci sarà da questo punto di vista poi un'obbligatorietà di pubblicare esattamente cosa è successo oppure rimarranno tutte e solo indiscrezioni e non ci sono obblighi di pubblicazione di queste informazioni, ad esempio. Non credo che ci saranno obblighi da parte di IMSS di pubblicare esattamente che cosa è successo. Allora, l'unico obbligo è quello, anzi, gli unici due obblighi sono quelli che correttamente ha delineato Lorenzo prima, cioè l'obbligo comunicativo verso l'autorità garante attraverso la notifica del data breach e l'obbligo comunicativo nei confronti degli interessati attraverso quello che è l'articolo 34 del regolamento, quindi la comunicazione anche con modalità diffuse come è avvenuto in questo caso. Ovviamente il GDPR, quindi il regolamento europeo, prevede questi due obblighi comunicativi e siccome li prevede nei confronti di due tipologie di soggetti diversi, uno estremamente competente, professionale, strutturato, organizzato, garante privacy, e l'altro i comuni mortali, noi comuni cittadini, va da sé che l'obbligo comunicativo abbia un contenuto diverso, cioè quello che io devo dire al garante è finalizzato a far cosa? A far sì che il garante possa disporre di tutti gli elementi necessari a valutare se ci sono delle responsabilità, di chi sono le responsabilità, quali probabili rischi futuri ci possono anche essere, perché non dimentichiamo che il garante è sia un'autorità amministrativa, ma ha una serie di protocolli operativi sottoscritti con soggetti istituzionali a vari livelli dell'organizzazione statale, tale per cui l'Inps può disporre ad esempio dell'Agid o del CertPA per fare valutazioni tecniche che probabilmente i tecnici Inps o dell'appaltatore di Inps non sono nemmeno in grado di fare, ok? Quindi è ovvio che all'Inps si deve dire tutto, scusate, è ovvio che al garante si deve dire tutto, scendendo anche nel tecnico. La stessa cosa non può essere diffusa all'esterno, perché? Perché banalmente c'è un'esigenza di sicurezza dei sistemi Inps che non può essere inficiata dal fatto di mandare a Massimo Ramello una comunicazione dettagliata che spieghi per filo e per segno come è stato bucato, se è stato bucato o come è andato giù, se è andato giù il server dell'Inps o il sito dell'Inps, ok? Quindi a parte il diritto di cronaca giornalistica che poi in qualche modo riuscirà forse a dare un livello minimo informativo non ci possiamo aspettare niente di più. A parte una dichiarazione ufficiale o un'indiscrezione la verità vera di quello che è successo non potrà mai venire fuori. Perché? Perché metterebbe a rischio anche gli stessi protocolli di sicurezza che ci sono, perché il sito dell'Inps continua a funzionare, continua a lavorare. Certo, ma io ho una seconda domanda e non so se anticiparla adesso o magari se ne parlerà dopo, però prima nel briefing che abbiamo fatto non mi ricordo se l'abbiamo vista, ma in questo caso se ci fosse, è più curiosità che altro, però vorrei capire perché qualcuno me l'ha chiesto nei giorni scorsi, se ci fosse il, come dire, ok, c'è la possibilità in questo punto di essere, di dare una sanzione, ok? Quindi in questo caso ci sono tutti gli estremi per una sanzione ad Inps, quindi intendo proprio economica in questo caso, come, cioè, è possibile questa cosa e chi paga in questo caso, visto che l'Inps tecnicamente la stiamo pagando tutti noi? Se vuoi dopo è in fondo, è nell'ultima parte che si va. Allora non la spoilerare. Non la spoilerare, perfetto. Allora, riprendo il discorso, brevemente. Vai, vai. Allora, io ho messo a questo punto il famoso articolo 32, il famigerato articolo 32 del regolamento europeo, perché il concetto di analizzare il rischio nasce fondamentalmente da questo articolo, che la prima volta che lo si legge lascia sempre un pochino spiazzati, perché siamo abituati agli allegati B della 196, siamo abituati alle normative che si calano proprio nello specifico delle misure tecniche e organizzative. Il regolamento europeo, in base al cosiddetto principio di accountability, tradotto significa responsabilizzazione, demanda alla singola organizzazione, al singolo ente, lo stabilire quali siano i rischi e quali siano le contromisure tecniche e organizzative. L'articolo 32 è anche abbastanza rassicurante perché dice che bisogna tenere conto di tutta una serie di elementi, fra cui di fatto anche i costi di attuazione. È ovvio che i sistemi informativi in generale, i livelli di sicurezza, siano costosi e debbano essere commisurati anche alle dimensioni e alla capacità di spesa dell'ente. Questo non deve essere un alibi, non è che la prossima volta che qualcuno chiede al riguardo basta dire non abbiamo soldi in bilancio, quest'alibi non regge. Semplicemente il legislatore europeo sta dicendo che i livelli di sicurezza sono diversi tra il portale istituzionale di un'amministrazione locale e il portale istituzionale dell'Inps, per evidenti ragioni. Quindi l'analisi di rischi scaturisce proprio da questo articolo 32, che è l'unico in cui si citi vagamente gli aspetti informatici, per lo più sono demandati al caso specifico. Ecco perché è necessario eseguire una corretta analisi di tutti i rischi, non solo dei servizi web o della parte tecnica, ma tutti i rischi anche di natura organizzativa, di smaltimento rifiuti, qualunque genere di rischio possibile e immaginabile all'interno dell'organizzazione, fra cui rientrano ovviamente anche i servizi web che in questo momento stiamo attenzionando. Ovviamente l'analisi non deve restare lettera morta, non deve restare un bell'esercizio di stile, e deve poi concretizzarsi in procedure operative, modifiche dell'assetto informatico tecnico, riorganizzazione dei locali, perché no in alcuni casi, cioè deve esserci una conseguenza all'analisi rischi. Tutto quindi scaturisce da questo famoso e famigerato articolo 32, su cui non mi soffermo troppo perché se ne sono dette di ogni riguardo a questo articolo. Sì, ti aggiungo una cosa che qui secondo me è anche un impartiacque tra chi lavora bene e chi no, cioè un'analisi dei rischi l'abbiamo vista fare più o meno dappertutto, ok? O mettiamola così, spesso abbiamo visto analisi dei rischi. Quello che abbiamo visto meno, ok, come team che aveva lavorato insieme, è poi il perseguire quello che è una risoluzione, comunque un arrivare a una condizione ottimale o una pianificazione di come migliorare questi rischi. Quindi qui fa un po' da padrona quello che diciamo sempre, la pianificazione, l'organizzazione, la strategia rispetto alla tattica. Nel senso che in realtà strategicamente se è stato analizzato un problema, a livello tattico deve seguire tatticamente una risoluzione, quindi in concerto tra il DPO, il privacy officer che opera presso lente, ma anche come obiettivo dell'ente darsi questa risoluzione delle problematiche, quantomeno la pianificazione di quando e come risolvervi, non solo analisi, ma anche attuazione. Questo per me fa da spartiacco anche tra DPO che lavorano bene, DPO che lavorano meno bene, ma anche amministrazioni che hanno capito appunto l'importanza di una pianificazione rispetto a quelli che, di un'analisi, quindi un'analisi dei rischi rispetto a quelli che l'hanno presa come un compitino. E molto spesso quando mi veniva detto, ma a me cosa serve fare l'analisi dei rischi? Se vogliamo prendere la propria brutale, al di là del che è indispensabile per sistemare i problemi, facciamo finta anche che dall'analisi sia scaturito qualcosa per cui l'ente è abbastanza protetto e non ha necessità o pochissime migliorie, quella è la base di partenza per la riorganizzazione dei processi, comunque interni all'ente, perché è stata per me, io forse sono stato uno dei pochi che ha visto in questa cosa finalmente un qualcosa che dice, ok ma come faccio a partire da un'analisi dei processi? Guarda, devi rivedere tutto i tuoi rischi, almeno lato privacy, da dentro lì sicuramente devi analizzare quei processi interni, le tue procedure, da quelle sicuramente tiri fuori uno schema di partenza per riorganizzare anche digitalmente tutti i tuoi servizi, sempre con un occhio di riguardo ovviamente alla protezione del dato, quindi questo scusa se ti ho bloccato, però per me era importante il fatto che come hai sottolineato tu non deve essere un esercizio di stile, non deve essere un, vabbè, uno schema, prendo uno schema qualsiasi di un comune della stessa mia dimensione che fa anche lui tributi con la mia stessa software house, copia in colla e quella è l'analisi dei miei rischi perché tanto sono tutti uguali. No, può essere una fase di partenza per poter poi analizzare le procedure interne per poi andare a cercare di formularle nel migliore dei modi. Sì, se posso inserirmi, allora non è che l'analisi dei rischi che ipotizziamo, io voglio implementare un nuovo servizio o una nuova applicazione all'interno del comune, non è che l'analisi dei rischi che abbia fatto il comune a fianco sulla stessa app non possa essere utilizzata. Non c'è nessun divieto, ma neanche da un punto di vista logico, anzi, se io potessi partire dall'analisi dei rischi che avesse già fatto il comune confinante, mi consentirebbe di fare che cosa? Di vedere se quell'analisi dei rischi lì si attaglia alla mia realtà. Perché paradossalmente se fossimo due realtà identiche, nulla vieterebbe di riutilizzare l'analisi dei rischi. Ma siccome due realtà identiche non ci stanno, non sono confinanti statisticamente, non fosse altro che il numero degli abitanti è diverso, non fosse altro che la tipologia di persone che abita all'interno del mio comune rispetto alla tipologia di persone che abita nella comune a fianco. Il livello di età, le esigenze lavorative, il grado di cultura, sarà sempre impossibile. Tutti questi fattori, se noi pensiamo ad esempio proprio a un'app o a un servizio online, fanno sì che il numero di accessi, il numero di soggetti interessati saranno inevitabilmente diversi. E quindi l'analisi dei rischi fatta dal mio confinante potrà essere presa come punto di partenza, perché è sempre meglio partire da un punto a cui sono arrivato, gli altri, che non partire dal cosiddetto foglio bianco, ma punto di partenza per fare dei ragionamenti approfonditi o più specifici, più dettagliati. Qualcuno diceva che bisogna sempre imparare dagli errori altrui perché ognuno di noi non vivrà mai abbastanza per farli tutti quegli errori. E siccome si impara dagli errori, meglio approfittare anche degli errori degli altri. Quindi analisi dei rischi, quello. Partire da qualcosa di già fatto, ottimo. Non facciamo i primi della classe e dobbiamo partire dal foglio bianco. È inutile, è controproducente secondo me. Io professionalmente parto sempre da qualcosa di già esistente. Poi tutto è migliorabile, anche le cose che faccio io, ovviamente. Questo è il primo approccio. Secondo approccio, chi fa l'analisi dei rischi? Perché il vero problema sta proprio qui. Perché se parliamo di sistema informatico e facessimo un sondaggio tra tutti quelli che stanno partecipando a questo webinar, penso che il 99,9% delle persone risponderebbe. Se parliamo di un app o di un servizio connesso al sito dell'ente, la valutazione dei rischi la fa il CED, piuttosto che la fa il fornitore esterno, piuttosto che lo fa chi capisce di queste cose. Sbagliato. Questa è la risposta più sbagliata che ci possa essere. Perché lui avrà il suo punto di vista e soltanto il suo, ma grazie a Dio che abbia il suo. Cioè io non mi posso aspettare e non vorrei nemmeno che un ingegnere, un elettronico, gestionale, informatico, avesse il mio punto di vista, mio non di avvocato, il mio di responsabile della protezione dei dati o amministratore comunale, piuttosto che dirigente di un servizio. perché? Perché se già lui avesse tutte queste competenze probabilmente sarebbe un insieme di competenze diverse ma di qualità singolarmente bassa. Invece se io ho un ingegnere, un CED che si occupa di queste cose ed è competente solo nella sua materia, io avrò un esperto con cui confrontarmi. Poi io sarò il dirigente dell'ufficio tecnico che apporterà il suo contributo, io nell'analisi dei rischi ci metterei anche le esigenze degli amministratori perché magari è proprio l'amministratore che dice io voglio spingere affinché questo servizio, questa app, vengano introdotte domani, la prossima settimana. ma siccome lui spinge io ho bisogno di mettergli a fianco qualcuno che gli faccia capire che spingere potrebbe essere un boomerang perché potrebbe far sì che esca il prodotto, il servizio, l'app con il default che ha avuto l'Inps, con un data breach megagalattico che anziché promuovere le idee dell'amministrazione, promuovere un buon servizio, far far bella figura all'amministrazione, la mette in ginocchio. Quindi gli amministratori nell'analisi dei rischi ci devono essere. Perché? Perché a seguito dell'analisi dei rischi, ad esempio, si potrebbe decidere che quell'app o quel servizio quest'anno non partono. Partono il prossimo mese, partono il prossimo anno. E poi da ultimo ci deve stare anche il DPO. Perché ci deve stare il DPO? Perché il DPO, al di là della professionalità che ha, e io dico sempre sarebbe opportuno che avesse poca professionalità dal punto di vista informatico, avesse delle cognizioni, avesse delle competenze, ma non deve essere un ingegnere informatico o elettronico. Perché? Perché proprio il DPO è quel soggetto che deve fare la valutazione richiesta dall'articolo 32 di quel rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Chi pensate che l'amministratore, il dirigente dell'ufficio tecnico, il CED, sono in grado di valutare qual è il rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone? Io ho i miei dubbi, perché io nella mia professione di avvocato spesso e volentieri ho delle difficoltà ad arrivare a capire se c'è un rischio per le libertà e i diritti delle persone. È professione mastico di diritti e libertà delle persone. Quindi il DPO è fondamentale che partecipi non perché dica sì, quella soluzione server lì è ottimale, è perfetta, va benissimo. No, è perché deve dire attenzione, noi siamo l'Inps, noi al nostro interno abbiamo dei dati che sono super sensibili, che sono super delicati e quella domanda lì che viene presentata attraverso questa piattaforma che noi rendiamo disponibile implica la valutazione di molti dati che potrebbero essere attinti da altre porzioni, altre parti del database e che quindi un incidente potrebbe aprire un tunnel all'interno del quale ci sono nome cognome, ma ci sono lo stato di salute, ci sono le patologie, ci sono migliaia di altre informazioni. Quindi il DPO non è quello che dice non si deve fare, ma è quello che ti dice attenzione perché il rischio è sì la violazione del database, ma attenzione perché nel database ci sono dati e dati. Quindi riassumendo, il tecnico dice cosa c'è che può andare storto, il DPO è quello che dice quali sono le conseguenze se quel qualcosa di storto va davvero storto. Infatti qui si apre secondo me anche il discorso del ok qui siamo collegati tantissimi enti, ovviamente sotto i 25 mila abitanti. Quanti possono avere all'interno un team tecnico in grado di valutare davvero in fase di pianificazione o lancio di un progetto tutte queste variabili? È quasi impossibile, motivo per cui stanno sempre state, ma vi costiamo, mi metto insieme a voi, sempre sottovalutando il lancio di qualsiasi lancio, chiamo lancio, ma l'ipotesi, l'idea di una creazione di un nuovo tipo di servizio per il cittadino, perché viene sempre sottovalutato, vengono sempre sottovalutati tutti gli aspetti tecnologici, legali, eccetera, eccetera, eccetera. E come diceva prima Massimo, solo alla fine il ruolo del DPO è quello di dire rispetto a questa relazione che mi state portando, appunto la problematica che vedo rispetto ai dati che vengono trattati è questa, o meglio il mio apporto è in questa piccola parte. Quindi è chiaro che bisogna avere un team di lavoro prima ancora di lanciare un qualsiasi tipo di servizio digitale che abbia valutato ognuno per i propri aspetti, tecnologico, giuridico, informatico, manageriale, eccetera, un team di sviluppo di progetto che poi appunto comprenda anche la parte della protezione del dato. Riporto una riflessione di Raffaella che mi ha fatto ricordare di una slide che avevamo proiettato durante il webinar dello human hacking che avevamo fatto qualche settimana fa, infatti diceva Raffaella che c'è anche un problema di accessi, ma c'è anche un problema di procedure, perché più passaggi ci sono in un processo più il percorso diventa fragile. Certo, infatti noi avevamo valutato nelle variabili per valutare appunto il grado di esposizione del rischio, in questo caso non è differente che sia un rischio tra virgolette di attacco informatico, umano o di violazione di un dato, il fatto che una delle variabili era proprio il tipo di accesso non regolamentato dal punto di vista tecnico-sistemistico all'informazione, perché non veniva, non viene quasi mai gestito il principio del minimo privilegio, cioè che un processo, un programma, un ente acceda a delle informazioni in base a secondo di un livello di astrazione è considerato ovviamente in base alle visibilità e alle risorse che deve ovviamente essere necessaria per il suo funzionamento, quindi lui deve poter accedere solamente alle informazioni che gli spettano, ma per far questo ovviamente deve essere prima gestito molto bene il processo per dire ok, ma tutto il processo è enorme, è un processo lunghissimo, ok, andrà spacchettato in sottoprocessi, ognuno avrà il suo compito, ognuno avrà un accesso solamente a un certo tipo di informazioni, perché in questo caso, adesso non la mettiamo proprio sull'Inps di per sé, però il fatto che un tecnico prenda, se dovesse essere successo veramente questo, un tecnico prenda iniziativa di andare in cash sul sito senza minimamente sapere che tipo di ripercussione c'è o qualcuno a livello più alto magari ha dato l'ok di fare questa attività senza sapere le conseguenze tecniche, è una mancanza probabilmente di informazioni tra un reparto e l'altro, ma che è un po' il contro del lavorare con il minimo privilegio, cioè col principio del minimo privilegio, quindi è un paradosso dentro la riorganizzazione del minimo privilegio, però vabbè, è una digressione che ho fatto visto che era arrivata una, diciamo, questa problematica sollevata da Raffaella, quindi mi piaceva... Sto per fare l'ultima battuta, visto che abbiamo parlato di multidisciplinarità e lavoro in team, allora, quindi multidisciplinarità e lavoro in team, quando si tratta di creare il sito web dell'amministrazione? Multidisciplinarità e lavoro in team nel momento in cui si implementa un nuovo servizio, una nuova app, una nuova modalità di erogazione o di interazione con il cittadino, ma anche multidisciplinarità e lavoro in team nel momento in cui sorge il problema. Nel caso dell'Inps, il paradosso è rappresentato dal fatto che a data breach avvenuto, quindi nel momento in cui l'Inps si è reso conto che qualcosa non funzionava e bisognava metterci una pezza, l'Inps non aveva nemmeno più il DPO. Il DPO dell'Inps è andato in pensione il 31 di marzo, il data breach si è verificato il primo di aprile. E tanto per far ridere tutti quanti, perché è ovvio che non è questa la causa del problema dell'Inps, è ovvio, ma visto che si parla di programmazione, si parla di budget, si parla di un sacco di interazioni tra uffici, servizi e persone, fa sorridere il fatto che il DPO pensionato dell'Inps, peraltro che il DPO dell'Inps è andato in pensione, è anche carina questa cosa. Comunque, ci arriveremo anche noi, dai Massimo, ci arriveremo anche noi. Dell'Inps che è andato in pensione nel suo curriculum, aveva esperienze, o non esperienze, skills in materia informatica, discreta conoscenza della suite di Microsoft Office. Queste sono le conoscenze e le competenze informatiche dell'Inps. È ovvio che non è il problema, l'abbiamo detto prima, dell'Inps è gestito in outsourcing, quindi nessuno si poteva mai immaginare che il DPO dell'Inps dovesse avere chissà quali competenze dal punto di vista informatico. però adesso era così per ridere. Visto che le polemiche piacciono perché fa sempre gossip, adesso si sta valutando un'altra situazione sempre connessa alla figura del DPO, del responsabile della protezione dei dati personali. Perché? Perché l'outsourcer, cioè l'azienda che ha in appalto la gestione del server, che contiene a sua volta il sito e tutti i servizi connessi dell'Inps, è ovvio che sia uno di quei soggetti obbligati a nominare e a designare responsabile della protezione dei dati personali. Certamente. Tant'è vero che l'ha designato. Ma il paradosso qual è? È che mentre quello dell'Inps aveva competenze informatiche molto vicine allo zero, quindi poco meno delle mie, il DPO dell'azienda informatica outsourcer è un ingegnere informatico. E allora lì si pone l'altro problema. Quel DPO era un DPO adeguato? Secondo qualcuno no. C'è da segnalare che in Europa ci sono già stati dei casi, mi pare la Germania, l'autorità privacy tedesca, quella federale, mi pare che abbia sanzionato o ci sia una procedura in corso, adesso non ricordo esattamente, un soggetto, un titolare del trattamento, perché ha ritenuto che il suo DPO non avesse quelle caratteristiche di indipendenza rispetto all'azienda stessa, essendo un dipendente, tale per cui potesse esprimere liberamente le sue opinioni dal punto di vista della protezione dei dati personali. Tradotto, il manager che all'interno di un'azienda presiede, governa il settore informatico, il settore IT, anche se ha un sacco di competenze, forse non è la persona più idonea a svolgere il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali. Perché? Perché di parte ha una visione tutta focalizzata, tutta concentrata sulla sua materia, mentre invece si vorrebbe che il DPO portasse un contributo anche più profano, ma un contributo di maggiore sensibilità rispetto ai diritti e le libertà delle persone fisiche. Chiudo. Ok. Allora. Che c'è? Grillo perché? No, ma con 15 slide. Era lì, accidenti. Non avendo visto le slide prima, non lo sapevo, se no me lo tenevo per dopo. Va bene. Allora. La parte più interessante sicuramente è ipotizzare che cosa succederà adesso all'Inps. Ovviamente qui possiamo solo ipotizzare, perché non sappiamo neanche con precisione quali siano state le cause e le procedure interne che abbiano determinato il database, ebbè è abbastanza difficile determinare quali potrebbero essere le decisioni prese dall'autorità garante. però possiamo fare una serie di ipotesi. Le conseguenze piacciono sempre tanto perché spaventano. Molti colleghi so che propongono consulenze in materia semplicemente parlando del famoso 4% di fatturato anno mondiale di sanzione. In realtà le conseguenze sono di varia natura non sempre la sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa è una dei dieci provvedimenti che può prendere l'autorità garante. Peraltro l'articolo che ne parla lo pone al nono posto su dieci, salvo poi un considerando andare a fermare che non va sottovalutata solamente perché si trova in nona posizione. Vediamo un pochino quali possono essere le conseguenze. La prima conseguenza è sempre quella che viene maggiormente sottovalutata, cioè il danno d'immagine. L'Inps è stata messa alla berlina, c'è poco da fare, vignette di ogni genere, ne ho condivise tantissime anche io sul gruppo e su vari gruppi WhatsApp. Il danno d'immagine è evidente, il danno d'immagine è subito dall'Inps ed è evidente il danno d'immagine che può subire qualunque ente pubblico. Danno d'immagine che però si concretizza maggiormente in quella che io ho definito la lesione del clima di fiducia. Ora già i cittadini tendenzialmente hanno non un fantastico rapporto con i sistemi web. Se poi avvengono fatti di questo genere, la fiducia cala e questo è un danno al processo di digitalizzazione su cui Andrea Marella potrebbe argomentare so per certo per ore se non settimane. Quindi il danno d'immagine e la lesione del clima di fiducia è certamente una conseguenza che va presa in considerazione per quanto meno tangibile di una sanzione amministrativa o addirittura di una richiesta di esercitoria che tra poco andiamo a vedere. Il danno d'immagine teniamo conto che è quantificabile in euro anche dalla Corte dei Conti, su cui magari dopo l'Avvocato Ramello farà una digressione su quella domanda che ha fatto prima Andrea Marella su riguardante chi paga se dovesse essere sanzionata l'Inps. Chi paga non solo se viene sanzionata, ma chi paga anche per il danno d'immagine e chi paga anche quello che vediamo tra poco, cioè le eventuali richieste di esercito. Le conseguenze sono tante, non c'è solo la sanzione amministrativa. Per esempio ci sono le conseguenze di natura civilistica. Le ho complessivamente definite civilistiche, è un termine abbastanza improprio. L'articolo 82 del regolamento europeo sancisce un principio fondamentale, cioè che chiunque subisca un danno materiale o immateriale ha diritto al risarcimento. Ovviamente si è causato da una violazione del regolamento. Quindi se non c'è stata nessuna violazione del regolamento, ma si è trattata di un evento assolutamente infonderabile e la votazione esiste fatta correttamente, le misure tecniche organizzative erano adeguate, e evidentemente l'ente non può essere chiamato a riesercire il danno. Ora nel caso specifico dell'Inps sarà molto difficile che qualcuno richieda un risarcimento, perché la quantità di informazioni divulgate è piuttosto limitata e al momento probabilmente si dice che non ci sia stata la possibilità di scaricare documentazione o comunque di acquisire informazioni particolarmente sensibili. Ma poniamo il caso che un perfetto sconosciuto entrando nel MyInps di un altro sconosciuto abbia avuto il tempo di scaricare documentazione o di acquisire informazioni. Magari quella persona a cui si riferiva il MyInps è un invalido perché è affetto da HIV. Può succedere che quella persona poi, una volta divulgate queste informazioni, subisca discriminazioni sul posto di lavoro e quindi magari faccia una richiesta di esercitore all'Inps che in questo caso non può che essere accordata perché c'è un danno immateriale, c'è una violazione, una lesione di un diritto fondamentale qual è quello il diritto a non essere discriminati a maggior ragione sul luogo di lavoro. In questo caso dell'Inps le richieste di esercitore per il momento pare che non ci saranno ma può darsi che col tempo vengano fuori situazioni di questo genere. Teniamo conto anche che un altro aspetto di questo data breach è stato il fatto che moltissime persone hanno condiviso sui social le schermate, quindi con tanto proprio di codice fiscale, indirizzo mail in chiaro. Ecco, oltre alla eventuale violazione commessa dall'Inps c'è la violazione commessa da coloro che li hanno condivisi quindi hanno ampliato questo data breach la stessa Inps nella sua comunicazione del 3 aprile scriveva per favore non condividete queste schermate ovviamente è un appello che è rimasto lettera vuota quindi la conseguenza civilistica, cioè la richiesta di risarcimento è un altro elemento da considerare molto spesso più oneroso della sanzione amministrativa stessa ci sono innumerevoli casi che ci giungono dagli Stati Uniti dove il concetto di protezione ai dati personali danno da trattamento è decisamente più evoluto rispetto all'Unione Europea essendo nato prima che da noi dove intere aziende da miliardi di fatturate sono pallite sotto il peso delle richieste di esarcitori mentre la sanzione amministrativa in realtà era una piccola parte è evidente che per procurare un data breach con un certo quantitativo di richieste di esarcitori serva veramente un caso eccezionale però è comunque una conseguenza per l'ente in questo caso quindi non per i diritti e libertà delle persone fisiche che va tenuto in considerazione le altre conseguenze le ho appena finite di citare sono le conseguenze di natura amministrativa quelli che l'articolo 58 chiama poteri correttivi dell'autorità di controllo già prima dicevo che il termine correttivo è molto elegante non si parla di potere sanzionativo o punitivo potere correttivo sembra quasi che l'autorità garante sia una sorta di padre che ammonisce, sanziona, dà indicazioni e effettivamente questa immagine può quasi essere vicina alla realtà dal momento che l'autorità garante ha anche una sorta di obbligo consultivo cioè di fornire consulenza ai titolari del trattamento stesso ora in base agli accertamenti che verranno condotti dall'autorità garante l'Inps si rischia ovviamente alle dovute condizioni una sanzione amministrativa questa sanzione amministrativa può arrivare fino a 10 milioni di euro ora la domanda che ha fatto prima Andrea a chi è che paga? è lo Stato che sanziona se stesso? qualche mese fa addirittura forse già un anno fa alcuni colleghi con cui mi confrontavo sostenevano che il garante non avrebbe mai sanzionato una pubblica amministrazione perché sarebbe stato come lo Stato che sanziona se stesso gli eventi successivi poi ovviamente è andato torto abbiamo notizia di amministrazioni comunali che sono state sanzionate dall'autorità garante quindi non è vero che lo Stato non può sanzionare se stesso internamente poi bisogna andare a vedere le responsabilità interne all'ente perché tutte le provvedimenti che può prendere l'autorità garante devono ovviamente essere commisurati a livello di responsabilità dell'ente in questo caso per il data breach quindi dobbiamo andare a vedere adesso le casistiche perché in base a come si è generato questo data breach e quindi di chi siano le responsabilità se dell'ente, di un dipendente, di un soggetto terzo in base alle varie responsabilità l'autorità garante può prendere varie decisioni l'esempio primo che faccio è l'esempio dell'hacker ora, nelle immediate ore successive al data breach già qualcuno ad alti livelli gridava l'attacco hacker non da ultimo addirittura il presidente Conte l'eventualità che tutto quanto sia stato causato da un attacco hacker è più che remota anche confrontandomi con amici e colleghi che magari operano in qualità di consulenti per la procura e sono ethical hacker cioè gente che prima di lavorare per la procura lavorava attivamente dall'altra parte della barricata gli stessi mi hanno confermato che per riuscire in un'impresa del genere serve un'organizzazione mica da ridere e anche e soprattutto fondi e disponibilità liquide è molto remota la possibilità che tutto sia stato causato da un attacco hacker anche per il fatto che non è stato rivendicato piuttosto è verosimile che l'attacco hacker abbia esacerbato una situazione già critica normalmente questi portali sono costantemente sotto attacco e costantemente reagiscono agli stessi ma supponiamo per assurdo che tutto il problema sia stato generato da un imponderabile attacco hacker cioè un attacco di terze parti particolarmente virulento particolarmente ben organizzato ce ne sono visti tante nella storia sistemi anche governativi che sono crollati sotto i colpi di un'organizzazione criminale particolarmente abile ecco in questo caso l'autorità garante dovrà verificare se i livelli di sicurezza in questo caso puramente di natura tecnica e organizzativa fossero effettivamente commisurati e se l'analisi rischi aveva tenuto conto anche di questa eventualità remota quando si fanno le analisi rischi si tengono conto anche delle eventualità più remote per esempio se un archivio è collocato su un'altura a 300 metri da un corso d'acqua non è vero che non inseriamo nella valutazione dei rischi la possibilità che l'archivio venga inondato la inseriamo e valutiamo il rischio molto basso in questo caso nel caso fosse stato all'Inps solamente un attacco hacker l'autorità garante andrà a verificare se è stata fatta correttamente l'analisi rischi le misure tecniche e organizzative erano state correttamente implementate se i dipendenti erano stati adeguatamente informati di queste stesse procedure e se tutta questa struttura di procedure e misure tecniche fosse commisurata ai, in questo caso, ai migliori standard di sicurezza informatica se viene accettato che l'attacco è stato veramente ben coordinato e siamo proprio nel mondo nell'ambito dell'imponderabile l'ente non può essere ritenuto responsabile è evidente la ragione ma questa è un'ipotesi che mi sentirei tranquillamente discartare semmai l'attacco in corso ha esacerbato una serie di criticità già in corso la seconda possibilità è la seguente che si sia trattato di un errore umano commesso, per esempio, nell'impostazione della cache oppure un errore di valutazione della quantità di accessi quindi è stato stimato, sottostimato enormemente la quantità di accessi è stata fatta una cache errata ecco, in questo caso l'errore è stato probabilmente commesso o dal dirigente, l'amministratore di sistema o da qualche dipendente sotto l'amministratore di sistema stiamo parlando ovviamente dell'outsourcer in questo caso bisogna verificare se le procedure esistessero se fossero commisurate al rischio e se l'errore commesso dall'operatore o dal dirigente sia imputabile al fatto che queste procedure magari esistevano ma non erano state adeguatamente diffuse quindi ci sono due casi o le procedure c'erano il dipendente, il dirigente era stato adeguatamente informato magari con un corso di formazione ma ha comunque errato le procedure esistevano ma è mancato quest'ultimo passaggio cioè distribuire queste informazioni anche per conto di informative piuttosto che corsi di formazione nel primo caso se l'ente ha messo in campo tutto ciò che era in suo potere ha fatto procedure ha dato formazione ha fatto regolamenti ha fatto ogni cosa fosse in suo potere in questo caso se l'errore è stato commesso è stato un errore umano un'imperizia o addirittura un'azione deliberata l'ente tendenzialmente non viene ritenuto responsabile normalmente non viene sanzionato all'opposto se invece le procedure esistevano ma non sono state adeguatamente divulgate tra il personale quello è un altro discorso può essere ravvisata una certa maggiore responsabilità dell'ente e qui insomma veniamo a una cosa fondamentale non è espressamente prevista la formazione nel regolamento europeo ma è chiaro a tutti che sia un velato obbligo quello di erogare formazione l'ultimo caso che ovviamente sono casistiche come vedete sto affrontando in maniera molto superficiale poi se vogliamo le andiamo ad approfondire meglio all'interno l'ultimo caso è il caso in cui non le procedure erano inadeguate viene ravvisato che all'interno dell'ente l'analisi rischi non era adeguata le procedure che discendono da quella stessa analisi non erano adeguate al rischio il problema è stato sottovalutato quindi c'è proprio carenza di struttura interna ecco questo è il caso più grave è meglio essere attaccati da un hacker e fare una pessima figura perché i sistemi non erano del tutto sicuri piuttosto che farsi cogliere impreparati sotto il profilo delle procedure cioè le procedure non erano completamente adeguate questo è un caso grave che di solito dà adito alle peggiori sanzioni o peggiori provvedimenti da parte dell'autorità garante ora io avrei concluso la mia filippica se vogliamo possiamo ulteriormente approfondire per esempio quando arriva la sanzione qualora arrivasse la sanzione amministrativa come funziona il danno erariale però su queste cose serenamente lascio la parola all'avvocato Ramello che so che si diverte particolarmente considerando che ha già attaccato l'inps se la sta prendendo con tutti quindi tra le varie cose sappiamo che questo video sicuramente non lo pubblicherò perché se già la posso l'avvocato era remota adesso sicuramente io sono stato molto più soft di moltissime anzi della maggioranza delle critiche dei post e degli articoli pubblicati online allora sì io farei darei delle pillole su questi argomenti allora il primo problema chi è il primo destinatario dei provvedimenti del garante e o di eventuali azioni di risarcimento danni perché abbiamo detto il sito è il sito dell'inps ha originato un data breach il data breach può portare giustamente Lorenzo ha sottolineato a dei provvedimenti anche sanzionatori del garante e a ipotetiche eventuali possibili anche se non volute azioni di risarcimento danni quindi chi è il soggetto che potrebbe subire queste conseguenze negative allora distinguiamo sanzioni amministrative le sanzioni amministrative sono sanzioni combinate non perché si è verificato il data breach ma sono sanzioni combinate perché il garante proprio in occasione del fatto che si è verificato un data breach ha constatato che il regolamento europeo è stato violato esempio non è stata fatta l'analisi dei rischi la sanzione quindi non è hai subito un data breach uguale fa 100.000 euro no hai subito un data breach andiamo a vedere com'è successo e se tra le cause la causa o le cause che hanno portato al data breach c'è non aver fatto l'analisi dei rischi ti sanziono perché non hai fatto l'analisi dei rischi ok quindi giusto per chiarire non c'è una sanzione correlata o combinata in conseguenza del data breach in realtà il regolamento europeo sotto il profilo sanzionatorio è diverso dalle norme nazionali che noi siamo abituati a conoscere cioè all'interno del regolamento non c'è scritto se subisci un data breach 10.000 euro di sanzione se non fai l'analisi dei rischi 15.000 euro di sanzione se non fai l'informativa 20.000 euro di sanzione ci sono c'è una norma che che dice sostanzialmente che se violi se non ho temperi a certe a certe disposizioni del GDPR c'è una sanzione fino a 10 milioni è un'altra norma un altro comma o un altro paragrafo che dice che se violi altre disposizioni la sanzione è fino a 20 milioni ok quindi non c'è la sanzione per il data breach ma una volta che il garante abbia deciso che o abbia ritenuto che vada combinata una sanzione i soldi chi li deve cacciare fuori tanto per essere perché tanto questa è quasi l'ora di pranzo bisogna essere immediato la sanzione viene combinata viene erogata all'Inps perché l'Inps è il titolare del trattamento perché i dati che sono stati pubblicati o resi pubblici sono dati che si riferiscono a soggetti che hanno una qualche forma di interazione con l'Inps sono iscritti alla gestione separata in quanto autonomi quindi il titolare del trattamento è l'Inps sanzione va all'Inps ma noi prima abbiamo detto che l'Inps questo data breach l'ha subito ma non perché i suoi tecnici i suoi impiegati stavano gestendo il server su cui risiedeva il sito web o quella porzione di sito web perché l'ha dato in outsourcing e allora ma l'Inps deve rispondere dei danni o delle inadempienze causate dal suo fornitore la risposta è sì ovviamente il GDPR in Italia era già scontato ma il GDPR l'ha precisato con l'Inps ha un'azione di regresso nei confronti del fornitore peraltro visto che parliamo di responsabilità amministrativa devo introdurre il discorso corte dei conti sì perché in quanto l'Inps soggetto pubblico e il suo fornitore soggetto che eroga un servizio pubblico sono entrambe assoggettati al giudizio di responsabilità per danno erariale quindi l'Inps direttamente in prima persona anche il suo fornitore nella misura in cui quello che ha originato la violazione che poi ha portato alla sanzione amministrativa quindi anche il fornitore possono essere soggetti al giudizio cosiddetto di danno erariale danno erariale che vuole che cosa vuole far sì che si rimedi al danno subito dall'Inps nel momento in cui dovesse pagare la sanzione amministrativa combinata dal garante quindi la scansione logico-temporale è la seguente il garante ammesso e non concesso che ci siano i presupposti irroga la sanzione amministrativa all'Inps e tutto si ferma lì nei confronti del garante finita quindi pagata la sanzione da quel momento lì in avanti si può aprire un duplice scenario lo scenario che vede l'Inps che parte direttamente in prima persona e fa causa al suo fornitore piuttosto che fa causa a un proprio dipendente oppure quello che è più verosimile è che la Corte dei Conti rinvenuto nel bilancio dell'Inps il pagamento della sanzione amministrativa vada a cercare di recuperare quel danno errariale quell'ammanco che alle casse dell'Inps ha determinato il fornitore o il dipendente dell'Inps questo lato sanzione amministrativa lato responsabilità civile la situazione è sostanzialmente simile anche se non identica nel senso che Lorenzo vi ha fatto vedere la slide in cui si parlava cos'era l'articolo 83 82 adesso a quest'ora i succhi i succhi gastrici incidono sulla lucidità comunque il diritto di conseguire il risarcimento del danno che spetta a chiunque questo chiunque quindi Massimo Ramello che no Massimo Ramello no perché non è iscritto alla gestione separata dell'Inps ma Lorenzo Frascotti che è iscritto alla gestione separata dell'Inps dice qualcuno ha visto i miei dati personali ne ho subito un danno lo dimostrerà lo spiegherà lo quantificherà al che farà partire una causa di risarcimento danni nei confronti dell'Inps questa causa sarà diretta sicuramente nei confronti dell'Inps ok ma perché perché il suo titolare del trattamento è l'Inps Lorenzo Frascotti non potrà mai agire nei confronti di un dipendente dell'Inps perché in materia di responsabilità del dipendente per le attività svolte nel contesto lavorativo il nostro codice civile italiano prevede che la responsabilità sia del datore di lavoro quindi Lorenzo farà causa all'Inps e l'Inps eventualmente se dovesse pagare potrebbe o rivalersi sul dipendente o aspettare che la Corte dei Conti arrivi e faccia il suo dovere ma Lorenzo potrebbe altresì agire nei confronti anche del fornitore dell'Inps perché in questo caso è evidente che la maggiore componente di responsabilità è del fornitore e non dell'Inps ma chi è che farebbe cos'è che farebbe scegliere a Lorenzo se iniziare la causa nei confronti dell'Inps o del fornitore o di entrambe sostanzialmente una scelta di natura processuale nel senso che i processualistici insegnano che si agisce sempre nei confronti del soggetto che più di tutti gli altri è in grado di garantire il soddisfacimento della mia richiesta quindi se io voglio portare a casa un risarcimento del danno è vero simile pensare che abbia più probabilità una volta ottenuto una sentenza che dice che ho ragione di portare a casa i soldi perché l'Inps a pagarmi che non la società fornitrice dei servizi all'Inps perché le società private possono fallire e quindi possono anche lasciare il cosiddetto buco l'Inps non può fallire quindi non potrà mai lasciare il buco e quindi l'Inps se viene condannata a pagare a Lorenzo una somma di denaro quel diritto di credito lì sarà certo e sarà sicuramente esaudito quindi queste sono le le fattispecie di responsabilità ovviamente il discorso del risarcimento del danno l'ultima cosa che voglio segnalare questa non è detto che sia la la situazione che spaventa di più perché nel mondo economico e nel mondo della fornitura di servizi quello che spaventa di più soprattutto per determinati servizi quelli connessi al mondo del web al mondo del cloud eccetera qual è è la perdita di credibilità del fornitore visto e considerato che è tardi ma visto e considerato che è una qualcosa di estremamente noto diffuso e recente immaginate a quello che sta succedendo oggi alla piattaforma zoom parlando di videoconferenze video webinar meetings e lavoro agile eccetera eccetera cioè il fatto per un'azienda di subire dei data breach o anche uno solo o in questo caso zoom ne ha subiti più di uno quindi con fuga di notizie fuga di dati eccetera e l'esposizione mediatica che ne consegue perché più utenti cominciano a lamentarsi e i social si popolano di commenti negativi di post negativi eccetera eccetera tutto questo potrebbe serenamente portare al fallimento dell'azienda quindi tra le conseguenze negative del data breach io annovererei elencherei le sanzioni amministrative ammesso e non concesso che siano combinate dal garante il rischio di risarcimento danni ammesso e non concesso che qualcuno mi faccia causa ma sono due situazioni lontane nel senso che richiedono del tempo prima di arrivare alle conseguenze reali quello che più di tutto deve spaventare sono le conseguenze indirette quelle non codificate che sono il discredito la perdita di credibilità traslando questo su una pubblica amministrazione potete solo immaginare che figura potrebbe fare per essere proprio chiari e diretti un'amministrazione comunale per il fatto che aveva ha voluto ha voluto introdurre una chat per i propri cittadini per lo scambio di segnalazioni informazioni e quant'altro non la configura in modalità broadcasting la configura in modalità classica tutti vedono gli indirizzi di tutti tutti vedono le comunicazioni di tutti arriva la sanzione del garante o qualcuno si lamenta pensate al discredito che ne può derivare pur se conseguente a un'iniziativa pregevole meritevole interessante tutto quel che volete infatti aggiungo anche che anche le modalità hai parlato prima di zoom ma in generale le modalità di webinar meeting queste piccole differenze sottili che fanno la differenza proprio tra un meeting rispetto a un webinar rispetto a un appuntamento uno a uno eccetera eccetera sono fondamentali anche nella protezione del dato cioè in questo momento in tutti i webinar che abbiamo fatto avete visto che nessuno di voi può interagire con nessun altro nessuno di voi può sapere chi ci ha collegato cioè solo a livello di organizzazione abbiamo queste informazioni per una questione anche qui di riservatezza del nome del cognome eccetera eccetera che comunque sia è importante visto che è un dato perciò anche questa modalità che in questo momento si è sbloccata a livello di digitalizzazione perché ovviamente siamo stati costretti allo smart working ad arrangiarci a trovare soluzioni più o meno gratuite più o meno regolamentate eccetera eccetera comunque sia non vi deve mai far dimenticare che il dato deve essere il più protetto possibile quindi in realtà prima ancora di ma per voi stessi in prima persona ma anche per chi organizza ovviamente per evitare ripercussioni di qualsiasi tipo quindi anche voi quando vi collegate a un webinar valutatene anche qui la bontà dell'idea dell'organizzazione di cosa c'è stato dietro anche semplicemente cercando di capire cosa potete vedere in quel momento perché si faceva prima la regola del minor utilizzo di risorse possibili in questo caso voi non sapendo chi altro ci è collegato quante persone il nome il cognome eccetera ci dà la possibilità di avere una protezione maggiore rispetto ad altri strumenti che ovviamente pubblicano tutto tutti possono interagire con tutti tutti possono chattare con tutti è ovvio che è un livello di interazione minore perché chiaramente in questo caso voi potete collocare solo con noi ma è vero anche che il dato in questo caso il vostro dato è più protetto non è in mano nessuno forse anche il vostro nome e cognome perché un attimo da lì riprendere in mano tutto quello che abbiamo detto anche sull'uman hacking prendere il vostro nome e cognome andarlo a cercare sui social vedere chi siete cominciare a prendere informazioni magari impersonarvi impersonare voi in un altro webinar magari facendo domande fuori luogo o magari addirittura andando a vedere la vostra immagine in altri posti quindi anche solo il nome e cognome di per sé è importante proteggerlo tra questo punto di vista quindi spero di non aver divagato su questo punto però era giusto per dirvi che molto stesso qualcuno mi dice perché nei tuoi webinar io non posso parlare con le altre persone perché non posso scrivere alle altre persone perché non posso sapere chi c'è a mio avviso perché non è corretto a livello di privacy semplicemente quindi detto questo credo che siamo arrivati alla fine intanto che magari facciamo gli saluti se qualcuno ha qualche domanda su qualsiasi aspetto che abbiamo trattato può farlo tranquillamente se c'è qualcosa che volete approfondire scrivetecelo pure che eventualmente o lo approfondiamo adesso oppure eventualmente lo prendiamo come spunto o per un altro webinar oppure per rispondere poi diciamo in privata sede in generale come tutti gli altri webinar anche questo lo sto registrando lo metteremo sull'area appunto sul canale YouTube quindi qualcuno so che mi ha già chiesto appunto se sarà disponibile Cosimo mi ha scritto prima che purtroppo con un problema tecnico ha perso una mezz'oretta di intervento lo potrete rivelere ovviamente e vi manderò una mail ovviamente con per ricordarvi qual è l'accesso al canale YouTube e vi ricordo anche per chi non si è già iscritto ma molti di voi l'hanno già fatto che invece giovedì andrò a trattare con un altro ragazzo del team che è Cristian la parte legata appunto alle videoconferenze all'appuntamento agli appuntamenti digitali con cittadini professionisti giunta giunta e e ovviamente il consiglio chiaramente lo andremo ad analizzare in primis con per quanto riguarda gli aspetti tecnici e tecnologici cioè dando comunque un attimo delle informazioni tecniche su cosa abbiamo ipotizzato di utilizzare in maniera sicura dando per scontato che sono state fatte delle scelte di software ovviamente ponderate l'obiettivo non è darvi informazioni giovedì su che software usare ma farvi capire che ci sono piattaforme dedicate al proprio cioè per alcuni scopi e che la bontà di un servizio quando si esternalizza è soprattutto l'idea di ottimizzare al massimo le risorse quindi quello che vi faremo vedere giovedì è come unendo tre software diversi quattro software diversi in realtà abbiamo automatizzato una procedura che vi fa risparmiare una marea di tempo successivamente a questo visto che stiamo testando il terreno appunto su quanti stanno adoperando questi tipi di tecnologie sicuramente andremo a fare un webinar dedicato anche qui con Massimo ma rinnovo anche a Lorenzo la partecipazione ovviamente per andare a discutere degli aspetti legali e di privacy legati a questi tipi di modalità nuove di interazione con le persone quindi che sia audio, video conferenza che sia uno a molti che sia molti a molti che sia solo audio solo video pubblicati o no in streaming per i cittadini e in questo caso ovviamente la revisione di tutta la documentazione della protezione del dato in base al dato che andrà trattato in base al software che andrà utilizzato e quindi ci sarà una parte anche su questa detto questo io non ho visto arrivare domande particolari quindi ne abbiamo risolte diverse durante quindi ci sta anche come al solito abbiamo quasi raggiunto le due ore anche oggi quindi siamo arrivati alla fine quindi vabbè io vi ricordo che per qualsiasi domanda vi arrivano le mie mail con tutti i promemoria il canale youtube eccetera potete rispondere eventualmente se non vi do risposta diretta io ovviamente la passo agli esperti e poi vi faccio rispondere scusate mi ero perso con la lettura della domanda di Veronica che dice che il mio collega è sconvolto quindi non farà domande ok e vi ricordo che eventualmente trovate una serie di risorse gratuite sul sito transizionendigitale.it da lì come punto di accesso la mia mail vi ripeto anche a livello di domande per l'avvocato Ramello o per il dottor Frascotti giratela a me tranquillamente poi io le smazzo le spaccio spaccio domande a tutti ok e vi ritorno non sono domande esatto no no faccio solo domande scherzi 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 oggi si adesso non posso poi adesso mi cambio metto la tutta dell'anidas e vado al parchetto a fare il re detto questo a parte gli scherzi spero che anche questa volta a mio avviso è stato utilissimo anche io ne sfrutto sempre per fare ricordarmi per come dire rifare un po' di formazione interna che non fa mai male quindi vabbè vi ringrazio e lascio gli ultimi saluti ovviamente ai due principali relatori ho fatto solo dal moderatore oggi quindi vi ringrazio comunque di aver partecipato e vi saluto a voi i saluti ragazzi Massimo saluti prima te sì va bene va bene va benissimo un carissimo saluto a tutti grazie perché vedo che siete sempre molto attenti lo vedo dalle domande quindi grazie per la partecipazione ci sentiamo alla prossima anche da parte mia alla prossima va bene ragazzi grazie a tutti e vedo che ci stanno arrivando grazie buona giornata ci vediamo giovedì perfetto Cosimo grazie mille e come sempre vi manderò poi il link della registrazione quindi ancora grazie ciao ragazzi buona giornata buon pranzo e buon sole visto che oggi c'è almeno dalle mie parti ciao ragazzi ciao 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 Lorenzo ci siamo rimasti solo più io e te ok allora a questo punto a meno che non vogliamo augurarci ma aspetta non lo so se c'è ancora qualcuno è sempre è sempre quello comunque allora evito di dire stupidamente ci sentiamo nel pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti